buongiorno ragazzi come state spero bene nuovo video che criccio anche oggi si perché ieri era l'ultimo video vlog mas oggi un altro video e criccio intanto per stare un po con voi e anche perché ci tenevo molto alla mia altra presenza qua su youtube e niente allora farò altri video così però ne farò altri dove faccio vedere altre cose e invece oggi una seduta casalinga ovviamente come suol dire come dice il canale di c4katerina c4katerina se non erro e the witch posizione di bellezza l'altra c4katerina loro fanno le le famose sedute casalinghe anche io la mia seduta casalinga in casa mia e niente era solo per dirvi che oggi non sono potuto uscire perché non sta bene nel senso che dolori ha un anca non so se si sia lasciati qualcosa non ne ho idea comunque sta il fatto che si può muovere quindi sono io a fare le compagnie quindi spero che la mia compagna vi piaccia per breve per così per breve perché volevo solamente dirvi che finalmente sono riuscita a fare a fare il mio solito regalo ai miei cugini c'era mia cucina più che altro ho fatto che regalo alle mie cucine anzi una sola perché l'altra non ho idea di dove sia forse a maddalena vabbè dettagli e nel frattempo che dire io ho regalato i campioncini a mia cugina campioncini e anche una full size se non ero non so se si è mini size o full size si vabbè poi nel frattempo vi ho detto mi è stata regalata a me vi ho fatto vedere quante cose mi sono state regalate a me e nulla tutto lì oggi mi vedete bella nuda e cruda senza trucco perché vabbè non me la sentivo di truccarmi ah di truccarmi piuttosto mi devo far vedere altri prodotti che ho finito per farci vedere un secondo solo non so nemmeno se ve li ho fatti vedere in qualche video non mi ricordo ma in ogni caso vi faccio vedere comunque uno è questo qua questo prodotto qui di tetra dexal ammorbidente freschezza di primavera e profumo di gesomino appunto dexal 750 nulla di prodotto non so cosa riuscite a vedere quella vicino e nulla e questo è il prodotto in sé dell'euro spin è un ammorbidente ci trovo benissimo un profumo eccezionale non è stucco uguale per niente direi molto buono e non rimane molto sulla roba nel senso il profumo come suol dire non rimane molto a non persiste a lungo sulle robe ma a me non importa basta che ve le profuma col poco se ne può rimanere lì cioè non è che non importa più che altro sì mi dispiace che non persiste a lungo ma se ne mettete troppo diventa eccessivo se ne mettete poco persiste poco buh non ne ho idea perché rimane così secondo me secondo mio naso io lo sento poco il profumo persiste poco non so se si dice pesiste comunque rimane poco poco sulle robe non so perché gli indumenti e anche sugli indumenti qua per esempio se mette su un po di ammorbidente sul pigiama se lo lavo il poco il pigiama niente rimane poco al profumo non capisco perché boh sarà un'impressione comunque questo è il fatto che lo provo a casa rimane poco però mi piace e rimane sempre il mio love il mio preferito poi altro prodotto sono solo due comunque vorrei poter vedere perché in questo video che vi è piaciato per vedere i prodotti che ho terminato per un video lungo di 20 o 30 40 minuti meglio mostro questi prodotti se volvi di seduta casalinga altro prodotto rimane argan oil nutre e rigenera body wash bagno schiuma si bagno dolce vabbè stessa identica cosa olio di oliva olio di oliva buonanotte ciao ci siamo olio di argan e biologico comunque questo è della vidal ecco questo bagno schiuma della vidal mi è stra piaciuto e di placone ne contiene millimetri 500 ml per un pao vi è di 12 mesi anche in questo stra piaciuto ve lo consiglio perché c'ha veramente un profumo piacevole da applicare sulla pelle ma non so anche una texture molto bella morbida è abbastanza assetosa raga non ce n'è come a questo bagno schiuma anche gli altri sono buoni quella cocco loot come si chiama cocco nut comunque quello al cocco che c'ho in doccia che vi ho fatto vedere nell'altro video di ieri che vi ho pubblicato ieri è stra buono mi piace veramente davanti molto buono sì ma questo fa la sua bella figura molto buono top e niente ragazze se lo trovate in non sono profumeria ticota qualche volete voi anche all'euro spin perché so che ho capito che questo forse c'è anche l'euro spin non sono sicura mette le mani avanti perché non è sicuro però può essere che ci sia voi controllate in ogni dove di ogni solo mercato per dire che si voglia se lo trovate scrivete scrivetemelo qua sotto dittemi un messaggio su instagram o ditelo in un vostro video ditelo in un vostro video fate come volete tanto comunque questo è molto buono e lo consiglio veramente eccezionale già e poi cosa altro dirvi nulla questa settimana farò altre cose belle sempre nel mio canale youtube ho attenzione di fare una rubrica ma non so ancora quale mi devo decidere perché non vorrei che arrivasse il prossimo anno e ancora non ho deciso che cavolo di rubrica a fare non ne ho veramente la più pallina ideuzza già volevo fare una seduta casalinga rubrica di robe beauty beauty per la casa nel senso igiene della casa non solo pulizia ma anche qualche altra cosa so che non ne ho idea proprio che tanto il prossimo anno arrivo in un batter d'occhio perché dimane veramente poco tempo mi devo dire non lo so sento che devo darmi una mossa è vero non devo avere fretta ma non voglio neanche arrivare in ritardo con la rubrica quindi anche se non farò watch my wash cosa c'è nella mia doccia oppure non so devo cercare un'alternativa come si può dire per per vedere i miei prodotti preferiti di quello che uso nella doccia la mia skin care preferita abituale e anche la mia skin care viso o corpo quel che l'è di tutte le cose che io utilizzo quando mi applico la crema cioè quando l'idratazione alla detersione vediamo un pochettino cosa mi riesce fuori cosa riesco meglio a fare vediamo per quanto riguarda invece la il make up sono ancora in alto mare voi direte per quale motivo per il semplice motivo che il make up lo sto utilizzando ma non solo per uscire fuori di casa più che altro per quando vengono gli ospiti non voglio far trovare chatona voi sapete come sono fatta se non mi faccio vedere con il sì avete capito benissimo con un po di filo di trucco addosso non sono contenta già va bene questo pizzetto quando non è che sia un massimo ma va bene tanto se sono se sono gente che ci conosciamo tipo il mio cugino mia cucina il mio zio non voglio far trovare troppo mozzarellina un fantasma no non esiste per me è vero che non sono caso di questo male raffreddore queste cose così allora me ne strafrego ma altrimenti se sto una favola se sto una rosa con solo dire il proprio sprint per la carica frizzante prevenso a tenermi bella luminosa e ordinata almeno quello non voglio non me lo voglio far mancare ecco tutto spero di essere spiegata cosa voglio intendere che mi piace di più il non perché non che non faccio la skin care per l'amor di dio già faccio la skin care alla sera quando vado a colgarmi però voglio dedicarmi anche di più a terminare il make up che ancora non sono riuscito a terminare è vero è difficile terminare palette come difficile terminare le matite ma non è difficile terminare i rossetti almeno per me che sto cominciando a terminare un sacco di rossetti in un sacco quei pochi rossetti che sto utilizzando tipo appena terminato un mese fa il rimel rossetto della rimel amethyst 160 sì quello non è terminato ma il rossetto della huay con 604 ancora non l'ho terminato vabbè come l'ho detto no dico mi rifinisco ma come l'ho detto che ancora vabbè mi dirò da sola verrà piano piano termini quello che devi terminare non c'è fretta vero ben detto e basta cosa volevo dirvi ah se mi vedete col letto rifatto e non sfatto è perché avevo deciso volevo fare all'inizio un video di pulizia della mia camera però poi ho detto me lo vedono così tante volte non ce n'è bisogno al massimo do una risetta dal letto lo rifaccio scuoto la lenzuola non dalla finestra ma così alla buona sul letto anche se fa tanta colpe ma è la camera che mi deve servire e non io la camera quando sono troppo svogliata perché è la verità quindi ho deciso di scuotere le lenzuola e poi rimettere la coperta e fare una bella piega al letto come potete ben vedere non so se si vede aspetta mi faccio vedere vedete il letto è tutto bello piegato è nulla ragazzi era per dirvi semplicemente che questo video deve essere solo un video di intrattenimento non lo faccio semplicemente come suol dire a livello amatoriale ma spero che mi possa piacere ah una cosa se non sentirete tanti rumori sottofondo se li sentirete amen però almeno ho deciso di mettere al montaggio di questo video una musichetta in modo tale che non vi disturba il resto del sottofondo forse adesso è silenzioso perché non ho acceso la tv la tele e vabbè sotto non c'è nessuno che sta facendo chiasso però ho deciso di mantenere tutto tutto che tace perché se no non c'è chiudete non c'è cosa che tenga che non riesco a registrare se c'è troppo come dire troppo non veramente il termine giusto se c'è troppo chiasso e troppo ah perché non vengono le parole oggi sì vabbè avete capito se c'è troppo chiasso e troppo troppo chiasso di sottofondo non si capisce bene il video l'avete detto anche voi mille volte nei miei video questo lo vuol dire non riuscivo a dirlo ragazze abbiate pazienza ma quando non registro più video vabbè io l'ho registrato davanti e se non manco mi ricordo quando sono qualche giorno in più senza registrare la mente va in vacanza nel senso che manco mi ricordo più come che cosa devo dire comunque siamo umane siamo esseri umani come si vuol dire ed è naturale e penso presumo per ogni singolo essere umano che è naturale dimenticarsi le cose oppure vabbè adesso non voglio stare qui a fare troppo la maestrina perché non serve a nessuno ma come credo che sia più come dire sì umano è umano anche sbagliare dimenticarsi le cose e via discorrendo e niente anche se ho pensato che avrei fatto lezioni di pillole di bellezza ovvero pillole di saggezza no di bellezza vabbè 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 dimentica di dire le cose non so se ve ne siete accorte e accorti ma sono un po' rinco perché tutte queste feste che stanno cominciando a passare e andarsene via mi stanno un po' mi stanno un po' scevando e così non so perché forse perché tra un video e l'altro e ogni tanto ho pausa metto pausa ai video nel senso stoppo i video poi li riprendo li registro e faccio e li monto tra un video e l'altro ci passano sono uno o due giorni e dico ma quanto c'è passato da un video all'altro quanti giorni ci sono passati eh eh perché non vorrei che fossero passati troppi giorni tra un video e l'altro vabbè 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 non si può avere tutto dalla vita anche se vorremmo essere tutti così di avere tutto dalla vita ma bisognerà sapersi accontentare con un solo video così come che diceva una canzone di Ligabue non mi ricordo adesso del titolo vabbè 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 a parte di certe notti diceva non mi ricordo più buonanotte sia contenta? ci sia contenta? si gode? boh qualcosa di sì non mi ricordo no non mi ricordo il ritornello sia contenta si gode boh qualcosa di sì beh se mi ricordate il titolo della canzone non il titolo il titolo ho detto anch'io il ritornello della canzone di Ligabue Luciano Ligabue dittimelo perché è troppo bella è un po' sporcacciona però fa anche ridere su via dai voi direte come fai a sapere quella canzone? ma dai tutte la sanno quella canzone è un po' maialina però a me piace quella canzone sinceramente parlando già e niente allora sto video non lo taglio ma non lo monto non dico regola mi è aiuto a regola d'arte però ho l'intenzione di fare di mettere delle musiche non so se mettere dettagli o che altro ma ho l'intenzione anche di quante volte avete l'intenzione che tenterò di riscrivertelo cosa mai e boh boh non saprei ma già allora ragazzi mie io nel frattempo vi saluto perché non voglio fare un video stralungo perché poi i video stralunghi so come vanno a finire che i video stralunghi vengono visti poco quindi non lo so vabbè dipende quello che si deve dire come dite voi a me però non lo so forse lo taglio forse no un metro vedrò 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 ma come vabbè io ho capito una cosa ma me la fate anche capire una mia amica di youtube che non fa video su youtube mi spero che faccia la instagram blogger su instagram appunto come dice la parola stessa che ho appena detto la voglio anche citare perché ci tengo troppo a lei mi sto simpatica anche se a volte devo dire la verità boh ho paura di disturbarlo quando vado a scrivergli però sì ragazze quando voglio scrivere a voi ho paura di disturbarli infatti dico aspetto un altro momento poi gli scrivo ma poi in realtà provo a scriverli e siete belle pacifiche come grazie di cuore ma no veramente grazie 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 a tutti voi grazie che vi supportate grazie che vi sopportate e grazie dei like grazie della vostra sincerissima compagnia e grazie di tutto di tutto cuore veramente già grazie anche dei complimenti a mia nonna grazie che supportate mia nonna grazie che la volete bene che le volete bene e grazie di tutto veramente di tutto l'affetto che le date quando guardate i suoi video svuota la spesa grazie di cuore siete veramente dolcissime già è nulla scusate se sono stata un po' mielosa ma volevo ringraziarla vabbè lei non è come me che è mielosa ma io ci tenevo a ringraziarla come faccio anche come faccio io per me stessa ma anche per voi da parte mia lei è meno mielosa di me ma io ci tengo a essere un po' mielosa è vero che non è giusto essere troppo melosi perché poi si cade come dite voi nel ridicolo però anche meglio ridicoli che essere freddi diciamoci la verità quindi io sarò dolce sarò troppo appagata anche un po' ingenua ma non mi sento così ingenua da come se sol dire da farmi prendere per i fondelli da nessuno quindi se qualcuno mi vuole chiedere la fruttata non ci riesce perché tanto so dire sempre la verità di come finiscono le cose no non è una follia la polimica però ogni tanto mi piace togliere un sassolino dalla scarpa perché sfogarsi è bene ma essere sinceri è meglio già io mi sto in questo momento non so sfogando con voi sfogando ma mi sto anche cercando di rilassare quello che voglio essere io d'altronde non sempre riesco a rilassarmi ma più delle volte ci riesco e nulla oggi sono abbigliamento outfit casalingo oppure il pigiamottis proprio quello non è snoopy e uno ha preso non so se dice felice o non so che vabbè è una era un negozio di casalinghi robe per la casa per l'appunto e anche di tutto c'era casalinghi abbigliamento e via discorrendo dalla casa alla scuola al make up di tutto c'era non sto qui a rivelarvi cosa c'era perché la felice mi pare che c'è anche non lo so in Lombardia in Roma non ne ho idea non mi prendete in giro perché non so la geografia ma la geografia ahimè la geografia non è del mio forte già però pazienza vabbè non non muore nessuno perché non so abbastanza bene la geografia come qualcuno mi dice a me che sono sgrammaticata pazienza anche lì non muore nessuno se sono sgrammaticata poi non mi pare di essere così tanto sgrammaticata anche se non si dice così tanto però ognuno parla come vuole permettete che è vero la lingua italiana non va mai mozzata non va mai come si dice sì esatto non va mai ridicolizzata già siamo bastarditi abbastanza scusate il termine il francesismo però è la verità se uno deve parlare come non sa parlare quindi nel senso se uno parla da schifo come dite voi non ci siamo vabbè io sono l'altra che parlo quindi scusate il termine male la grammatica anche l'italiano non è tanto il mio è abbastanza pessimo però molti mi dicono ah ma tu sei brava di grammatica vabbè no comment lasciamo stare che è meglio lasciamo stare non se ne parla se voi mi dite ma perché devi dire così perché ragazzi è la verità io non è che sono al massimo parlando non è boh lo so mi sento più sicura di me da quando ho 33 anni ma non c'entra niente boh non so cosa direi mi sento così strano boh boh curiosa mi sento mi sento veramente molto curiosa perché anche a parola ogni tanto mi dicono non è una domanda è una supposizione oppure non è ponte esclamativo più di altro vi faccio così vi dico così che a parola ogni tanto quando mi vedono fare i videoblog con la telecamera in mano cioè con il telefono in mano mi dicono ah che strana questa che curiosa non sono dei ragazzi ma non sono neanche dei signori adulti sono dei ragazzini di Palau che tra l'altro ci tengo a che ciao a salutarvi se mi vedono ma ne dubito perché ancora sono troppo piccola su youtube ma magari mi hanno già visto non ho idea non saprei non voglio neanche saperlo perché non che è per vergogna perché non mi vergogno di nulla oramai ce n'è passato i tempi che mi vergognavo vabbè un po' di vergogna mi rimane sotto sotto ma non tanto anzi più che altro mi vengo del del pensiero che se volete salutarvi sotto i commenti siete pure prego siete pure i benvenuti accomodatevi però io non so se veramente mi conseguono o meno quelli di Palau adesso non pensate male mi ho solamente chiesto una cosa voi di Palau se vedetevi questi video mi seguite veramente oppure no vabbè non per sfor non per forza per sapere se mi seguite o meno vabbè come si può dire per seguire un youtuber bisogna seguirla con piacere e ci tengo a precisare che mi è stato detto da Magliacaccia si chiama così si vabbè una mia utente di una mia fan del mio canale youtube comunque una fan amica come la so dire sia una mia amica di youtube che poi è una carissima amica simpaticissima quanto è la Stefi Stefi il canale della pirottina cioè due amiche mie questo è quanto mi è assolutamente salvata mi è assolutamente salvata si vedrà ciao mettete like commentate iscrivetevi attivate la campanella e subito e fatela in Italia nera ovviamente e subito su tiktok e come dire instagram youtuber melania trattino basso 8 lo leto anche più lentamente possibile poi su facebook sulla mia pagina pubblica che non so quanto sia pubblica ma vabbè dettagli e melania beauty makeup mi pare si non mi ricordo comunque se mi riesci rimetto tutti i nomi di riferimento ai miei social e basta provo quello se riesco se no a pace amen ciao va ciao